Uedì, Maria potrebbe rivoluzionare il casted polemica su Gianni e Tina, livelli bassi. Cambiamenti in arrivo a Uomini e Donne, la popolarissima trasmissione del pomeriggio che porta la firma di Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni rivelano che potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il parterre del throne over. Dove a farne le spese sarebbero alcuni dei volti noti della trasmissione del primo pomeriggio, tra cui Armando Incarnato. E, intanto, sul web e sui social spopolano le polemiche nei confronti di Gianni e Tina. I due storici opinionisti della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Nel dettaglio, stando alle ultime indiscrezioni sul futuro di Uomini e Donne, sembrerebbe che Maria De Filippi potrebbe attuare delle modifiche al cast della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5. A quanto pare, infatti, i cambiamenti potrebbero interessare in primis il parterre del throne over, dove si vocifera che potrebbero esserci dei cambiamenti in corso. A farne le spese potrebbero essere alcuni volti noti dello show Mediaset, tra cui Armando. Roberta e Riccardo, trattassi di tre personaggi che ormai, da svariati anni sono presenti in trasmissione. Ma non riescono mai a concludere qualcosa di serio e duraturo. Una delle novità delle prossime registrazioni, invece, potrebbe essere legata al ritorno in studio di vecchi tronisti del passato. I quali a distanza di anni potrebbero rimettersi in gioco nel parterre del throne over per continuare a cercare la loro anima gemella. In attesa di scoprire se queste indiscrezioni troveranno conferma nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni è nata un'accesa polemica anche sui due opinionisti del talk show. Gianni e Tina si sono scagliate duramente nei confronti della dama Aurora Tropea. Tornata in studio dopo un periodo di assenza per rimettersi in gioco e cercare l'amore della sua vita. Aurora ha raccontato di aver sconfitto una malattia in questi anni in cui è stata assente dallo studio TV di Maria De Filippi. Ma ciò non è bastato per far cambiare idea ai due opinionisti sul conto della dama. Che è stata pesantemente attaccata in studio. E, le reazioni dei fan social non si sono fatte attendere, in tanti hanno puntato il dito contro Gianni e Tina. Ritenendo le loro uscite fin troppo eccessive nei confronti della dama. Livelli davvero bassi, hanno scritto alcuni utenti sui social commentando le scene mostrate a uomini e donne legate al duro attacco nei confronti di Aurora da parte degli opinionisti del talk show pomeridiano di Canale 5. Giò spazescu, giò sponta, sus cu rapu, ambiție, tradiție, asta m'a dus cu rapu, decà mai toți ziceau că muzica a pus cu rapu, și pentru el e de bun simță, ridic ștacheta, liric vorbința, giungă la ea doar nasa cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execuzi ca pre Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre tale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte, tobele bat cu inima deodată, nu le opresc că nu-s atât.